Morte sospetta in ospedale, la procura di Trapani ha avviato un'indagine per far luce sull'eccesso di un giovane egiziano operato di appendicite. Preso topo d'auto, i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno individuato il latro, diventato l'incubo degli automobilisti. Cala il sipario su Mangiasano, si è conclusa ad erice la prima edizione dedicata alle eccellenze gastronomiche siciliane. Ben ritrovati, la procura di Trapani ha avviato un'indagine per far luce sul decesso di un giovane egiziano operato di appendicite. Sarà la procura di Trapani a far luce sulla morte di un giovane egiziano di 19 anni deceduto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate dopo essere stato operato di appendicite. Si presume che si possa trattare di un caso di malasanità. Ecco perché Maurizio Sturiano, presidente del consorzio Solidalia che gestisce il centro di accoglienza dei fulgatori dove la vittima era ospitata da un paio di anni, ha sporto denunce alla magistratura. A 19 anni dice che non si può morire per un appendicite. Per questo motivo ho presentato subito un esposto in procura, vogliamo che venga fatta chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso. La mattina, nello scorso 26 aprile, il giovane è stato colto da malore, accusava dolori all'addome e vomitava. Gli operatori del centro di accoglienza hanno contattato il medico dell'egiziano, Francesco Angelo. Io sono in studio alle 15.30, portatelo da me. Nel frattempo, al 19enne veniva somministrata una plasil. Il dolore però non passava. Preoccupati, gli operatori del centro di accoglienza hanno chiamato un'ambulanza. L'egiziano è stato così trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate dove gli è stato attribuito il codice verde. Nell'area di emergenza però c'erano altre persone in attesa e così i sanitari invitavano gli operatori del centro a condurlo nella vicina guardia medica. Il giovane continuava a vomitare e su indicazione del medico veniva riportato al pronto soccorso dove, ancora una volta, gli è stato assegnato il codice verde, diventato poi giallo in seguito all'elementere e alle proteste degli altri utenti che hanno capito che il giovane accusava qualcosa di grave. Il 19enne ha trascorso la notte nel reparto di osservazione. Il giorno successivo la diagnosi. Appendicite. L'egiziano doveva essere operato ma siccome in chirurgia non c'era posto, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale di Alcamo dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Qualcosa, però, non è andata per il verso giusto. Le complicanze in seguito all'operazione hanno spinto i medici alcamesi a trasferirlo all'ospedale di Trapani dove è stato ricoverato in rianimazione. Ieri, il decesso dell'egiziano. Ancora cronaca, due componenti della cosiddetta banda del Bancomat sono stati assolti dal gruppo del Tribunale di Trapani. Il gruppo del Tribunale di Trapani ha assolto Pietro Maisano e Giuseppe Di Dio arrestati nell'ambito dell'operazione Jammer condotta dalla polizia che nel maggio del 2021 sgominò tre bande collegate fra loro specializzate nell'assaltare i Bancomat degli istituti di credito e degli uffici postali. Gli sportelli a Trapani, Marsala e nel Catanese venivano scardinati con l'utilizzo di escavatori rubati. Nel corso della prima udienza preliminare a Marsala la posizione di Maisano e di Dio venne stralciata. Il giudice infatti accolse la questione della competenza territoriale sollevata dalla difesa rappresentata dagli avvocati Salvatore Gallufo e Giuseppe De Luca. Il processo pertanto venne spostato a Trapani e celebrato con il rito abbreviato. Il PM aveva chiesto per i due imputati una condanna a tre anni e sei mesi ciascuno. Il GUP però ha emesso sentenza di assoluzione. Diverso invece l'epilogo del processo per gli altri componenti delle bande dei Bancomat. Sono stati infatti condannati con rito abbreviato dal GUP di Marsala a pene complessive per 18 anni altri cinque imputati. La pena più severa, sei anni di carcere, è stata inflitta ad Andrea Tropea, 33 anni, 10 reale. A cinque anni e mezzo invece è stato condannato concetto Mannuccia di 37 di Catania. Due anni e mezzo per Antonino Viglianesi, 42 anni di Catania, un anno e otto mesi per Alessandro Valentino Longo, di 43, anche lui della città etnea. E due anni e quattro mesi per Fabrizio Stabile, 29 anni, di Marsala. Sempre a Marsala, dinanzi al GUP, Riccardo Alcamo avevano scelto di patteggiare la pena altri quattro imputati. Quattro anni di carcere a testa sono stati inflitti ai trapanesi Antonino Anselmo, di 58 anni, e Massimiliano Gaspare Salafia, di 44, mentre due anni e mezzo sono stati decisi per il 55enne marsalese Isidoro Salvatore Rallo, in passato arrestato anche in operazioni di mafia, e un anno e mezzo al trapanese Francesco Mancuso, di 32 anni. Nel corso della stessa udienza, per altri cinque era stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani, per competenza territoriale. L'operazione Jammer è stata condotta dalla squadra mobile di Trapani. Cinque gli assalti, eseguiti tutti con lo stesso modus operandi. La prima incursione risale al 10 luglio del 2019, quando a Marsala fu scardinato uno sportello di banca intesa. Poi, il 31 agosto, il colpo ai danni del credito valtellinese di Contrada Xitta alle porte di Trapani. Sempre a Marsala, altri due colpi alla banca Toniolo di Contrada Terre 9 e alle poste di Contrada Paolini. Il quinto, datato 19 febbraio 2020, al credito siciliano di Tre Castagni. Il bottino complessivo è stato di 225 mila euro, di cui 74 mila recuperati nel corso delle indagini, dalle quali è emerso che il gruppo catenese avrebbe agito con procedure di approccio di tipo militare, mettendo a disposizione delle bande di Marsala e Trapani la propria expertise nell'esecuzione materiale dell'assalto agli sportelli Bancomat. I carabinieri di Castellammare del Golfo hanno denunciato un pregiudicato di 35 anni per una serie di furti che avrebbe messo a segno negli ultimi giorni e per l'indebito utilizzo di una carta di Bancomat. Da un'indagine avviata dai militari dell'arma di Castellammare sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul 35enne in merito ad una serie di furti su autovetture denunciati negli ultimi giorni dalle vittime del topo d'auto. Dagli accertamenti e tramite la visione di immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e dall'escussione di alcuni testimoni, l'uomo sarebbe presunto responsabile di un furto su un'autovettura di una carta Bancomat che avrebbe utilizzato dopo per prelevare la somma di 250 euro presso uno sportello ATM del centro cittadino. Di un furto su un'autovettura della somma di 100 euro in contanti e del furto di un'auto avvenuto il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata e riconsegnata dai carabinieri al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia. Un arresto e una denuncia invece sono stati eseguiti dai carabinieri di Mazzara del Vallo. I carabinieri di Mazzara del Vallo col supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale, portodarmi ed oggetti atti ad offendere un pregiudicato castelvetranese di 49 anni. I militari dell'arma impegnati in un posto di blocco nel quartiere di Mazzara II intimavano l'alta al 49enne che era alla guida di un'auto. Con lui c'era un passeggero, l'uomo non si è fermato dandosi a precipitosa fuga, è stato però bloccato dopo un breve inseguimento. Da un controllo è emerso che era sprovvisto di patente e come se non bastasse è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico. Anche il passeggero, un pregiudicato di 42 anni, deteneva un coltello a serramanico e un coltello a farfalla. Quest'ultimo è stato denunciato. Il 49enne, a seguito di udenza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano. E si è conclusa aderisce la prima edizione di Mangiasano ed è stato un grandissimo successo. Ha chiuso i battenti ieri la prima edizione dedicata all'agroalimentare siciliano. Tantissimi visitatori anche durante questo lungo weekend festivo che hanno preso d'assalto l'Expo Village di Piazza della Loggia nel centro storico di Erice. Sabato mattina, invece, erano terminati i laboratori all'Istituto Ignazio e Vincenzo Florio in collegamento con la rete nazionale degli alberghieri d'Italia ed il cooking di Fabio Potenzano, chef del programma di Antonella Clerici e sempre a mezzogiorno su Rai 1, che ha presentato la sua ricetta agli alunni presenti a Palazzo Sales, la caponata. Per me è stato veramente un piacere ritornare nei posti dove ho lasciato... mi hanno formato perché vengo da una formazione palermitana ma anche trapanese, perché mi sono diplomato alla scuola alberghiere Ignazio e Vincenzo Florio di Erice Casasante. Quindi per me è stato veramente un piacere ritornare e vedere così tanti ragazzi e ragazze entusiaste di questi momenti. Oggi è l'ultimo giorno, so che ci sono stati colleghi illustri, insomma colleghi e amici nei giorni passati, ma oggi abbiamo parlato, come nei giorni passati, di tradizione, quindi di caponata. Una caponata che si fa a casa mia, la caponata di mia nonna Silvia, che ho voluto insomma interpretare sia dalla parte tradizionale, quindi la caponata tradizionale e quindi con gli ingredienti genuini, sani, che la nostra meravigliosa terra ci dona, con altre due interpretazioni, una all'interno di un cannolo di brick e l'altra invece ricoperta da una pellicola di sedano. Con lui la scrittrice e gastrosofa Anna Martano, che oltre ad affiancarlo durante il cooking mattutino, ha partecipato al workshop pomeridiano intervenendo sulla gastronomia siciliana. Se non conosciamo il nostro passato siamo come qualcuno che soffre di amnesia, non sappiamo più chi siamo. Allora recuperare il passato significa proiettarsi verso il futuro, perché significa riappropriarci della nostra identità. Quale identità puoi costruire se tu non hai un'identità. Allora per costruire il futuro la Sicilia, anche attraverso questi ragazzi che sono straordinariamente bravi, perché questa è una scuola veramente troppo avanti, la Sicilia deve recuperare questo patrimonio che è ricchissimo. Oggi anche i siciliani non conoscono più tante ricette. E questo è il senso del mio lavoro e questo è il senso del mio impegno. Recuperare, ma non solo per un recupero diciamo accademico fine a se stesso, recuperare per avere una prospettiva di ripartenza che tenga conto di queste gemme che abbiamo nel nostro scrigno. Nell'aula magna Pam Dirac poi, alla presenza dell'assessore alla formazione ed istruzione della regione siciliana Mimmo Turano, ha fatto gli onori di casa a Lorenzo Zichichi, sottolineando l'importanza di aprire al territorio la fondazione Ettore Majorana. Ascoltiamolo. Mangia San Italia, così come è stata a Sovini l'anno scorso, è importante perché consente alla fondazione di avere a che fare con il territorio, di promuoverlo e anche di fare da luogo in cui il territorio può mostrare le sue eccellenze. A Erice passano mediamente 3.000 scienziati e studiosi che provengono da tutto il mondo e questi scienziati e studiosi, sempre per volontà di mio padre, sono ospitati nelle strutture, ristoranti, bar che gravitano intorno a Erice e quindi noi pensiamo che tanto più la presenza dei prodotti gastronomici di qualità è fruibile per questi scienziati, tanto più pur venendo per altri motivi questi scienziati saranno felici di essere stati nel nostro territorio. Ora lo sport, buon proseguo. Grazie a tutti.